Zeb89 ha ragione e tutti coloro i quali lo attaccano non hanno capito praticamente nulla Facciamo un passo indietro Registro questo video innanzitutto perché non voglio cavalcare l'onda del ritorno di Zeb Nel fare le live su YouTube in lingua italiana Ma bensì in qualche modo mi sento chiamato in causa lato creatore dei contenuti Allora quello che è successo lo conosciamo tutti A un certo punto della sua carriera Zeb decide di andare a streamare su Twitch in lingua inglese E questo viene visto come un tradimento dalla maggior parte della fanbase che lo segue Della serie come ti permetti, noi che ti abbiamo sempre supportato, abbiamo donato, abbiamo commentato, condiviso Tutte queste cose qua ci hai voltato le spalle così dal nulla Allora miei cari signori qui stiamo un attimino andando un pochino oltre quello che può essere il supporto a una persona Se una persona la si vuole supportare veramente bisogna rispettare anche le scelte che quest'ultima fa Se una persona, uno streamer, un creatore dei contenuti decide a un certo punto della sua carriera di provare qualcosa di nuovo, un'esperienza nuova Voi sicuramente dovete dire la vostra Perché in democrazia ognuno deve poter esprimere il proprio concetto Su questo non ci piove, però non potete, dopo che l'avete detto una volta, continuare E continuare, continuare a buttare melma su melma su melma A una persona che fa di questo lavoro, di questa professione La sua fonte di guadagno principale Come può essere Zeb, come può essere un'altra persona Chi siete voi per limitare i progetti di un'altra persona Solo perché magari vi leva il vostro intrattenimento Io questa cosa sinceramente non la condivido e non la capisco Dall'altra parte dello schermo ci sono persone che veramente si impegnano per creare un contenuto buono Per offrire il giusto intrattenimento alla propria fanbase Ma ciò non toglie che la persona che registra rimane una persona libera di creare quello che vuole E di streammare nella lingua che preferisce Quindi questo già è un punto fondamentale Il fatto di limitare la libertà del creatore di contenuti È una cosa gravissima In secondo luogo Il fatto di fare questi continui paragoni tra streamer Tra creatori di contenuti su youtube È una cosa del tutto errata Voi non potete paragonare Zeb89 con Blur Perché contano dei contenuti diversi Sono due personaggi diversi Hanno una fanbase completamente diversa Allora c'è chi piace magari sentire e leggere le bestemmie ogni due per tre Va a seguire la live di Blur Chi gli piace magari i tormentoni che ha creato Zeb Va a seguire Zeb Ma non potete fare il paragone con uno e con l'altro E nel mezzo ci buttate anche Dario Moccia E no perché Dario Moccia E no perché Joker E no perché Ciccio Gamer Ognuno ha la propria fanbase Ognuno deve fare quello che ritiene opportuno Per la propria sopravvivenza Ma non solo a livello social A livello anche proprio di entrate Voi spesso e volentieri dimenticate Dimenticate che le persone fanno questa cosa sicuramente perché trovano piacere Ma in primis perché comunque hanno un ritorno economico che gli consente di poter vivere Di poter pagare le bollette Di poter mangiare Quindi voi non potete Non ne avete il diritto Di limitare O di comandare Sul creatore di contenuti Il creatore di contenuti ha La consapevolezza che Magari portando un determinato contenuto Può essere eseguito da X persone Se porta un'altra cosa Se ne prende le proprie responsabilità E corre i rischi del caso Io penso che non succederà mai più Nella storia di Youtube Italia Che una persona va offline Con le streaming per 5 anni E al suo ritorno ci sono addirittura 45.000 47.000 persone Ad attenderlo E a donare A commentare E a sostenerlo Sicuramente Una buona parte era Perché comunque era curioso di vedere Cosa avrebbe detto Sicuramente Siamo tutti d'accordo Però ripeto Sono numeri Che non si possono di certo ignorare 400.000 visualizzazioni di live In un giorno Quindi capirete bene Che questa cosa Deve un po' terminare Il paragone con i vari streamer Con i vari creatori E come se a me Paragonassero a un'altra persona Non ha Non ha senso questa cosa qui Perché io sono io Gli altri Gli altri creatori Sono gli altri creatori Non dovete per forza cercare Di far scattare la miccia Perché ovviamente Volete vedere Litigare I vari So perfettamente Che queste cose Fanno fare visualizzazioni Però per quanto riguarda Il mio metro E il mio Il mio metodo Di 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 creazione Dei video Si basa Unicamente Sul Portare i contenuti Che a me piacciono Non sono lì a criticare Tizio A criticare Caglio Altrimenti Apro un nuovo canale Di critica Prendo di mira Tutti quanti E inizio a sparare A zero Su tutti E così che poi Magari si aprono i podcast Si aprono Queste Però di fondo Non c'è niente Cioè Chi critica Il diritto di critica È sicuramente Sacrosanto Ma È una cosa Quanto meno Fastidiosa Che delle persone Debbano Campare Alle spalle Di altre persone Non va bene Zeb Che prova a streammare In un'altra lingua Ma va bene Blur Che portava Le slot Il casino Su Twitch Quelli sono i contenuti Genuini Che vuole L'italiano medio Quello va benissimo Quindi L'udopatia Quello Quello Si accetta tutto Perché lui è il king E lui può fare tutto Giusto Però se una persona Prova a streammare In lingua inglese Bisogna buttare melma Se una persona Prova Una nuova esperienza Lavorativa Portando E streammando Sempre i videogiochi La non lo può fare Perché altrimenti Si prende la Deve portare il peso Sulle spalle Però Slot Casino L'udopatia Quelle dobbiamo Sdoganarle Come la normalità Vanno benissimo Non possiamo dire nulla Dobbiamo stare zitti E dobbiamo guardare contenuti E ovviamente Dobbiamo utilizzare Il link in descrizione Perché sono tutti Link affiliati Dove guadagnano Ulteriori soldi Quindi Io vorrei capire Un attimino Veramente Io Non trovo Neanche le parole Per Per mettere Sulla bilancia No Le due situazioni Che si portano avanti Nella discussione Tutta italiana Quindi ragazzi Non Faccio fatica Aspetta 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 Ho capito Allora dobbiamo Semplicemente Fare come un'altra persona Magari No Si donano le 3 euro E io Non saluto A me Tu che hai donato 3 euro Non me ne frega nulla Quelli sono i comportamenti Che ci devono andare bene Che vi devono andare bene Che vi vanno bene A questo punto Io veramente Vedo Un mondo Sempre più Rovesciato Veramente Al contrario Poi Sulle modalità Che Zeb Ovviamente Il personaggio Che è Che ha costruito Negli anni Sappiamo tutti Il personaggio Che è Allora Sono due Le opportunità O si ama O si odia Non c'è Una Una via di mezzo Quindi O si segue O non si segue Se non lo segui Il problema Non si pone Se lo segui Allora Ne prendi Tutte le Le conseguenze Dei suoi comportamenti Se sei fan Lo sei fino in fondo O magari Ti dai dei limiti Finché determinate cose Ti possono andare bene Sei una persona libera Lo spettatore E una persona libera Tanto quanto Lui è il creatore Di contenuti Dobbiamo un attimino Mettere In chiaro Anche Questo aspetto Ripeto Io non faccio Questo video Perché voglio Cavalcare l'onda Della discussione Che si è accesa Non me ne frega Assolutamente nulla Altrimenti Sul mio canale Uscirebbero sempre Questi Questi Argomenti Questi video D'accordo Per chi non Mi conoscesse Io ho già caricato Sul mio canale Youtube Attivo dal 2014 Da 10 anni Praticamente Quasi 2800 video Di giochi Che sono Molto di nicchia Quindi non è il classico Fortnite Il classico Code Sono dei giochi Molto di nicchia Ogni singolo Iscritto È stato Sudato Con le mie Forze Non ho mai Chiesto aiuto A nessuno A differenza Di altri Non ho mai Fatto collaborazioni A differenza Di altri Non ho mai Gettato Melma Su altri A differenza Di altri Ho sempre fatto Il mio Percorso Lineare Io ho raccolto Quello Che ho seminato E ovvio Che poi Se vengo Stuzzicato Voglio dire Le battutine Comunque Posso rispondere Anche io Però ecco Non ho mai Dato spazio A queste cose Perché voglio Che le persone Mi seguono Per i contenuti Che porto Che faccio Mille visualizzazioni O 7000 8000 Come le facevo Sinceramente Va bene così Perché comunque La mia realtà La conosco io E chi mi segue I numeri Le entrate Se proprio Vogliamo parlarci Chiaro Le posso conoscere Solo io Comunque Non andando Troppo fuori Al discorso Io ripeto Questo video Lo faccio Perché mi sono Sentito chiamato In causa Come creatore Di contenuti So perfettamente Che la community Che mi segue È molto Comprensiva Nei miei confronti Mi Sono sempre Stato una persona Trasparente Ho sempre Detto le cose Come stanno Non mi sono mai Nascosto Dietro Al nulla Quindi Veramente Trovate una persona Che è così Come Come viene Diciamo Come mi rappresento Nei video Sono così Anche nella vita Reale Grosso modo Poi ovviamente Il personaggio L'ho costruito Ma ripeto Non si discosta Tantissimo Avete perdonato Anche Joker Dopo tutte le cose Che ha combinato Le sponsorizzazioni Che sono ancora Visibili Nei suoi shorts Avete perdonato Tutto quanto Però proprio Zeb Ve l'avete preso Di mira E non volete Perdonarlo O Per meglio dire Alcuni Provano Ad affossarlo Però Non ce la farete mai Perché Zeb È un personaggio Troppo forte A livello di YouTube Non potete Battere un personaggio Come Zeb 89 E sto dicendo queste cose Lo ripeto Non perché gli devo Leccare Il di dietro Non me ne frega Assolutamente nulla Io ho il mio canale YouTube Sono felice Dei contenuti che porto Sono felicissimo Delle visualizzazioni Che faccio Dei commenti Che ricevo Degli abbonati Che ho E di tutto quello Che ho costruito Quindi Lo ripeto Per la terza volta Casomai il concetto Non fosse chiaro Però ripeto Ancora una volta Una persona Può avere Tutti i modi Sbagliati Del mondo Però se al suo ritorno Trova 40 45 mila persone Pronte ad abbonarsi Per scrivere in chat E a donare Allora signori Qualcosa Questa persona Ha lasciato Qualcosa Ha creato E sinceramente Stiamo parlando Del nulla Più totale Attacchi Che sinceramente Io non capisco E soprattutto Non condivido Io so perfettamente Che il web L'internet Non perdona Quindi Basta una parola Basta un errore Un accento Errato Una parola Errata Che subito Ti massacrano Cioè proprio Non ti lasciano Respirare Il web Il web È davvero Spietato Da questo punto Di vista Se io dovessi Sbagliare A coniugare Anche un solo verbo Praticamente Verrei massacrato Voi immaginate In proporzione Con persone Molto più seguite A sbagliare Cioè sarebbe Veramente Una La fine E tra l'altro E concludo Facciamo attenzione Perché come Ho detto Spesso e volentieri Anche in passato Lo spettatore Ha un potere Molto Molto importante Molto forte Può far Può dare visibilità Senza limiti Ma quella stessa Visibilità La può levare Come niente È una cosa Che dipende Dallo spettatore Però sempre Con i modi Garbati Da evitare Assolutamente Parolacce Parole Che possono essere Pesanti Perché voi Non sapete Una persona Come può reagire A un messaggio Che magari Sembra innocuo Non scherzate Con queste cose Perché purtroppo Non è il caso Di Zeb Ora sto Facendo un discorso Un pochino Più Più grande Ne abbiamo sentite Veramente Di tutti i colori Quindi vi chiedo Non dico di essere Comprensivi Nei confronti Del creatore Di contenuti Sempre e comunque Però Almeno Un paio di domande Cercate di farle E soprattutto Quando mettete Sulla bilancia Cercate Di avere La stessa Diciamo Calibrazione Ok Non è che dovete Utilizzare Due pesi E due misure A seconda Del personaggio Che avete Di fronte Potrei parlare Per ore Potrei Toccare Altri argomenti Però Spero Che il concetto Sia abbastanza Chiaro Tocca a voi Nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Io comunque Rimango di questo Avviso Che ripeto Il web Non perdona E bisogna Soprattutto Saperci stare Nel web Sapere Cos'è L'internet E Zebo89 È una persona Professionista Del settore Quindi C'è solo Da imparare Attenzione Non lo giustifico Su determinate Uscite Che ha potuto Avere In passato Su determinati Argomenti Io sto parlando Della scelta Unicamente Dello streaming In lingua Inglese Quindi non dite Cose che io Non ho detto Perché appunto Penso di essere stato Si spera Abbastanza chiaro Noi ci becchiamo Come sempre Con un prossimo gameplay Anche perché Ne ho un po' Da caricare Rimanete aggiornati E iscrivetevi Se i contenuti Che porto Sono di vostro interesse Non iscrivetevi Solo per questo video Date un'occhiata Al canale E poi fatemi sapere Eventualmente Alla prossima Ciao Ciao